La nostra famiglia segue in modo attivo la pubblicazione di La parola di Dante fresca di giornata, che l'Accademia della Crusca pubblica ogni giorno di questo anno dantesco. Dal primo giorno di gennaio abbiamo infatti avviato la nostra personale sfida di 365 giorni, accompagnare la parola selezionata con un breve video da registrare e pubblicare giorno per giorno, in cui la recitazione della terzina si lega alla riscoperta degli spazi del nostro quotidiano, si intreccia con il lessico dell'espressione musicale e figurativa, si fonde con l'empatia delle visioni che questa ricchissima e riscoperta commedia ogni giorno ci offre. Questo video vuole solo riproporne alcune suggestioni. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Forse, per forza, già di parla sia, si travolse così alcun del tutto. Ma io non vidi, ne credo che sia. Poi l'addentar con più di cento raffi, disser, coverto convien che qui balli, sicché se puoi nascosamente accaffi. io mando verso l'ati questi miei, a riguardarsi alcun se ne sciurina. Citi con loro, che non saranno nei. Noi andavamo con gli dieci demoni. Ai, fiera compagnia. Ma nella chiesa coi santi e in taverna, coi ottonini. E si traeva angiolunghi e la scabbia, come coltel di scardova le scaglie, o d'altro pesce che più larghe l'abbia. E il piange qui, l'argento dei Franceschi. Io vivi, potrai dir. Quel da du'era, l'agave beccatori, stanno freschi. Non mi risponde. Io non lo so. Scusi sì. Scusi sì. Scusi sì. Scusi sì. Scusi sì. Non aveva mai avuto la scuola. Non era camminata di palaggio, la vera van, ma natural burella, che avea mal suolo e di lume disagio. Or ti piaccia gradir la sua venuta. Libertà va cercando, che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Tu vedresti il zodiaco rubecchio, ancora all'orse, più stretto rotare, se non uscisse fuor del cammin vecchio. Verdi, come fogliette pur non nate, erano in veste, che da verdi penne percosse tra ea indietro e ventilate. Come? Perché di loro memoria sia. Sovre sepolti le tombe terragne portan segnato quel che li eran pria. ebbe la santa chiesa in le sue braccia, dal torso fu, e purga per digiuno, l'anguille di Bolsena e la vernaccia. non altrimenti stupido si turba lo montanaro, e rimirando ammuta quando rozzo e salvatico si urba. ne quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada, che lagrimando non tornassero a tre. Mentre che piena di stupore e lieta, l'anima mia gustava di quel cibo che saziando di sé, di sé asseta. donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual volgrassi a te non ricorre, sua disianza vuol volar senzali. Oh Bonapollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valorsi fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro. Poca favilla, gran fiamma seconda, forse, di retro a me con miglior voci, si pregherà perché Cirra risponda. E poscia per gli uccelli, lume in lume, ho già preso quel che si udico a molti che sapore di forte agrume. E come uccelli, surti di rivela, quasi congratulando a lor pasture, fanno di sé o rotonda o raltra stiera. foglia Grazie a tutti